Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà no a questo emendamento perché nella Commissione Bilancio ai Presidenti presenti è stato ampiamente spiegato dall'Assessore le motivazioni per cui questa richiesta non era accoglibile. Uno dei punti fondamentali di questa amministrazione è ridurre l'indebitamento e pur consapevoli e certi che bisogna migliorare nell'accertamento delle fonti di finanziamento che sono inserite in bilancio, quali le affrancazioni, non è pensabile che si torni indietro rispetto alla possibilità di non indebitare ulteriormente l'ente. Ricordo che uno dei punti premianti di questa variazione è la sostituzione di finanziamento tramite mutuo di molte opere dei municipi stessi con avanzo e quindi evitando indebitamento. Credo che sia opportuno andare in questa direzione per continuare a migliorare l'asset economico finanziario dell'ente. Grazie. Grazie a lei.